come sta brutal bene non ce ne frega un cazzo andiamo allora è pronto benvenuti tutti nel live faccio una repata un attimo per ringraziare tutti eh ma non è aggressive questo vado in live su twitch tutti i pomeriggi mi trovate in live su twitch tutti i pomeriggi provo a fare qualcosa provo essere un po innovativo con i punti canale voi potete riscattare una bella suonata della tromba grazie mille tutti i ragazzi per essere qua nelle live ultimo ultimo ma voi pensi di essere simpatica aspettate un attimo devo vedere una cosa si scherza si lo so che stai scherzando sto scherzando anche io infatti la mia è una battuta simpatica aspettate quanto simpatica 3 però oddio no 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 not that's very southern zone play believed the far the south so far we've had at least today se non across the entirety of the 11 matcha so far Now the NA West Zone seemingly No smirare nel box! No smirare nel box! Dio! Dammi la mira! Dammi la mira! Merda! Se questo non smiravo nel box era giù eh! Era giù eh! Era giù! Era giù figa! Bella ciccione! Flammalo flammalo distruggi! Ti do un pancake ciccione! Cassi! Vieni qua! Ti è piaciuta la NA World nella tua live Cassi ti è piaciuta? Eh patatino vieni qua! Vieni! Vincio ti ho tolto comunque l'amicizia perché Gli parlo poco poco dei franzi! No poco poco! Le franzi! Le popoli della rivoluzione! Della legalistie! Della fraternità! E poi di ridurgar sì il bidet non diritto! Ma che popoli di merda è! Non diritto il bidet figa! No! Cosa puoi vivere senza il bidet? Tu parlo di che lingue? Gia! Non puoi non puoi non puoi non puoi più non puoi più! Non si vuoi più fare eh! Ma vaffanculo vanno lo sapevo! Bravi bravi! Non mettete un colpo sincera! Non mi ha fatto sboccare! Patatino! Questa io la clipperei sindcera! Io sono per la playa Io sono per la playa Io sono per la playa E grazie anche a Lollo per i 5 abbonamenti Apri! Apri questa porta Tutti quelli che premeranno il cuoricino adesso e che si iscriveranno al canale avranno uno sconto del 32% per una serata con la mamma del Manu Per chi non la conoscesse anche se la fama la precede e la fame soprattutto la precede la chiamano folletto e vi garantisco che è alta un metro e settanta però aspira come un Dyson Quindi ragazzi solo i primi 3000 che premono il cuoricino Let's go ragazzi dai 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 Che coi la vedo brutta Ok 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 ci siamo Ma chi è? È un altro GG Vamos GG Come devi staccare? Eh devo staccare perché mi hanno rubato la televisiva Hanno preso possesso del divano in maniera abbastanza... Ti hanno sfrattato insomma Sì esatto Mi capito Come faccio a modificare i tasti del gioco? Qualcuno lo sa mi puoi aiutare? Devi andare dentro le impostazioni C'è Allora Bene Ciao Epic scusate per quelle sono per lo snappo eh È per lo snappo ragazzogna Non In trio soprattutto Che sono tutti quanti Mamma mia Vabbè Lo chiamavano Pizzculo per terra Stiz se lo faccia dire eh No no ma Morto Addirittura Andiamo a carriare Pizz Ma c'è calma c'è calma Ma andiamo Madonna Non mi ha tirato un colpo Quindi c'è veramente Tarte Ma quello ti sta clippando? L'hai visto? Dai 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 Ti sto paletamente clippando No 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 no